Mai ultimatum, mai out-out. Diciamo solo che abbiamo saputo che membri del governo, ministri, hanno discusso con i parlamentari del Partito Democratico dei collegati che si dovrebbero approvare venerdì prossimo in Consiglio dei Ministri. Noi di questi collegati non sappiamo assolutamente nulla. In una coalizione penso che ci debba essere una sorta di par condicio. Se questi collegati sono stati spiegati dai ministri del Partito Democratico ai deputati del Partito Democratico, cosa lecitissima, gradiremo conoscere anche noi per poterle discutere. Quindi io ho chiesto al Presidente Letta, che sono certo risponderà immediatamente, di poter conoscere questi provvedimenti e di avere le stesse opportunità di valutazione e di cambiamento che hanno avuto i colleghi del Partito Democratico. Nessun out-out, mai e poi mai.